Diciamo che questa è una manifestazione, si deve usare un'unica parola, arricchente. Arricchente perché è bionivoca, cioè sia il medico che viene in questa manifestazione viene arricchito dal rapporto umano con i malati e con le persone, anche con i loro familiari, con i loro amici, questo è un altro aspetto molto bello, sia, penso, anche quello che possiamo dare noi in un rapporto che è diverso da quello formale con un camice e una visita medica per quanto approfondita e umanamente attenta ai malati. Quindi manifestazioni di questo genere sono molto belle, poi sono arricchite ulteriormente dalla possibilità di dare un'informazione corretta, che questo credo sia un aspetto molto importante sia per le persone che per i loro familiari, per i loro amici.